Questa mattina al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, l'Istituto Italiano di Tecnologia e l'INAIL hanno presentato una soluzione per tornare a far camminare chi ha una mobilità ridotta o assente. Si tratta di una sorta di robot indossabile, un esoscheletro innovativo chiamato Twin. Allora per parlarne noi siamo collegati con Matteo di Riab Technology Laboratorio dove è stato sviluppato. Benvenuto. Grazie, buonasera. Ecco, senta, ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Ma come ha detto lei è proprio una macchina indossabile, quindi fatta di motori, di lega di alluminio e con una serie di fasce che permettono effettivamente di fissare il robot alle diverse parti del corpo di chi lo utilizza. e l'utilizzo di questi motori permette di andare a dare la funzionalità, insomma può essere utilizzato su pazienti con diversi livelli di abilità alle gambe e agli arti inferiori. Ecco, infatti vediamo in questo momento le immagini della presentazione di questa mattina al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Quali sono gli aspetti più innovativi di questa vostra creazione? Ma allora abbiamo lavorato per rendere la macchina il più funzionale e utilizzabile, insomma massimizzare l'usabilità del dispositivo. Quindi la macchina al momento è capace di essere smontata, è montata in una serie di moduli, adesso probabilmente lo vedremo qua nel video. Ci sono una serie di moduli motori che permettono grazie a degli attacchi rapidi, che sono delle strutture elettromeccaniche, che permettono di rendere la macchina modulare, quindi smontabile in diversi piccoli pezzi e quindi essere gestita in modo più semplice rispetto a quello che sono i dispositivi concorrenti, che tipicamente sono monolitici. Ecco, senta ma purtroppo siamo quasi in chiusura, ma le volevo chiedere come lo dobbiamo considerare? È un prototipo oppure è qualcosa già di più avanzato? Diciamo che è un prototipo, ma ha un livello decisamente avanzato, è già stato sperimentato su pazienti con diverse tipologie di lesione midollare e adesso andremo a sperimentarlo per i prossimi tre anni per avvicinarci alla marcatura SCIE, insomma secondo quello che sono i regolamenti europei per quanto riguarda i dispositivi medicali e poi a seguire la commercializzazione. Allora una soluzione tecnologica dunque che dà speranza a tante persone che non hanno più la possibilità di camminare. Grazie a Matteo Lafranchi per essere stato con noi, ora facciamo una piccola pausa e poi tornano le notizie di Regnus24.